Prima di dare inizio all'audizione desidero esprimere a nome di tutti i colleghi presenti del Parlamento italiano che è qui rappresentato profondo cordoglio per le 43 vittime che il 14 agosto scorso alle 11.36 percorrendo il ponte Morandi sono nati in conto ad una morte che poteva e doveva essere evitata. Chiedo quindi alla Commissione di osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio. Grazie Presidente, colleghi, prima di iniziare l'intervento mi viene, come lei Presidente ha proprio accennato, alla pubblicazione fatta da parte di Aspi, Autostrade per l'Italia, delle convenzioni comprese gli allegati. Io e tutto il Governo, immagino tutto il Parlamento, possa prendere atto che si tratta di una buona notizia e siamo passati dalla diffida a pubblicare, fatta dalla stessa Aspi nei confronti del Governo, a pubblicare gli atti e le convenzioni, alla pubblicazione spontanea. Il mio primo pensiero va alle vittime, alle famiglie che purtroppo piangono i propri cari. Il crollo di Genova non è dovuto ad una tragica casualità, ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche, lo scrivemmo chiaramente, la prima vera grande opera di cui è bisogno questo Paese è un imponente organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti. La Convenzione di concessione con autostrade per l'Italia è stata sottoscritta in data 4 agosto 1997 e ha fissato la scadenza della concessione al 31 dicembre 2038. Poi ci sono state le successive integrazioni, sulle quali andiamo in dettaglio più avanti. Ma l'anno della grande privatizzazione è il 1999, con il Governo d'Alema inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. Stiamo infatti parlando di manufatti infrastrutturali costruiti per la gran parte tra gli anni 60 e 70. Secondo la maggior parte degli economisti, il capitale investito risultava già ammortizzato e remunerato alla fine degli anni 90 e dunque i pedaggi oggi avrebbero potuto e dovrebbero essere drasticamente ridotti. E mi pare che la cosa non sia accaduta. Invece ci portiamo dietro sei tipi di convenzioni, sei sistemi tariffari, come vedremo pure dopo, con due gruppi che fanno la parte del Leone. Atlantia, 3.020 km gestiti, che comprende autostrada per l'Italia, 2.857 km gestiti e che controlla sostanzialmente circa metà della rete a pedaggio. E poi il gruppo Gavio, 1.212 km gestiti, che ne controlla circa il 20%. Nel 2016 i signori delle autostrade hanno fatturato quasi 7 miliardi, di essi 5,7 derivano dai pedaggi autostradali. Allo Stato sono tornati appena 841 milioni di euro. Nel frattempo, dati del mio ministero, gli investimenti sono calati del 20% rispetto al 2015 e per la manutenzione si sono spesi appena 646 milioni di euro, il 7% in meno rispetto all'anno precedente. Esistono altri modelli però in Europa, che a nostro avviso funzionano molto meglio di quello italiano. In Germania, Olanda e Belgio le autostrade sono pubbliche e parzialmente gratuite. Si è trasferito un monopolio dalla mano pubblica a quella privata, senza nemmeno istituire da subito un'efficiente autorità regolatrice. L'autorità dei trasporti, infatti, è nata soltanto nel 2011 e, malgrado l'impegno e il valore dei suoi componenti, non può incidere su vicende come quella di Genova. Infatti, non può far pesare le proprie prerogative sulle convenzioni già in essere. Al tempo stesso, le sue prerogative sanzionatorie sono riconosciute come deboli e bisognose di interventi che le rendano più efficaci. Appena giunta la notizia dell'immane tragedia, con decreto del 14 agosto 2018, numero 386, abbiamo istituito una commissione ispettiva per svolgere i necessari accertamenti e le analisi tecniche sul crollo del viadotto al fine di verificare cause e circostanze del cedimento. Le risultanze complete di tale indagine e una dettagliata relazione sui fatti accertati verranno forniti entro la prima metà di settembre. La commissione ispettiva ha fornito una prima indicazione in cui si sottolinea che si ritiene indispensabile evidenziare che dall'esame tecnico della documentazione progettuale emerge, con riferimento alla pila numero 10, sopravvissuta al crollo, uno stato di degrado di materiali, ovvero della corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primaria e secondaria, di grado più elevato, 4 su una scala di 5, rispetto a quello riscontrato nella pila 9 crollata che risultava a livello 3. Ci aspettiamo, e sto leggendo i virgolettati di quanto ricevuto dalla stessa commissione ispettiva, ci aspettiamo che il concessionario adempia in tempi rapidi alle attività di verifica, consolidamento, messe in sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati e instabili. In conseguenza dell'immane tragedia occorsa a Genova abbiamo accelerato il procedimento di monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione di strade, autostrade e lighe. Tutti gli enti soggetti gestori dovranno a tal fine segnalare entro il primo settembre di quest'anno le azioni necessarie a rimuovere condizioni di rischio riscontrate sulle infrastrutture di propria competenza. Dobbiamo sapere da qui a poco quali sono e se ci sono altre infrastrutture che necessitano di interventi straordinari e laddove c'è bisogno questi interventi dovranno essere fatti e non solo annunciati. È stato chiesto alla Società Autostrade per l'Italia di inoltrare entro il primo settembre una dettagliata relazione nella quale sia fornita chiara evidenza di tutti gli adempimenti posti in essere per assicurare la funzionalità dell'infrastruttura in questione e prevenire lo specifico evento accaduto. A seguito dell'incontro con il predetto gestore è emersa la disponibilità da parte di Società Autostrade a presentare entro i prossimi cinque giorni alcune ipotesi operative e relative tempistiche relative alla demolizione dei tronconi del viadotto non collassati e instabili. Le prime famiglie hanno già ricevuto un alloggio e secondo il cronoprogramma tutte le persone sfollate avranno un'abitazione entro massimo la metà di novembre. Ovviamente pubblicazione degli atti concessori, l'abbiamo detto all'inizio ma facciamo un ultimo brevissimo passaggio. In data 24 agosto ho inviato una specifica indicazione alla struttura interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rendere interamente pubblici tutti i contratti in essere con i concessionari autostradali comprensivi dei relativi allegati collocandone i contenuti sul sito web del Ministero. La Sciagura di Genova ci impone di adottare nuove misure rispetto al passato. Dobbiamo allestire una banca dati a livello centrale che possa acquisire tutte le informazioni riguardanti lo Stato e la manutenzione di tutte le nostre infrastrutture. Lei ha fatto propaganda, non ha detto una parola come ha detto la mia collega su cosa intende fare per la mia città, per le famiglie delle vittime, per gli imprenditori, per i cittadini, per Genova, per il suo porto. Niente. Non ci ha detto se rifà il ponte, non ci ha detto che cosa dà di aiuto alle aziende, non ci ha detto se fa un piano straordinario, una legge per Genova, non ci ha detto se l'autonomia finanziaria ai porti. Queste cose noi genovesi abbiamo bisogno, non di polemiche. Per quanto riguarda invece le concessioni mi pare chiaro, lo ribadisco, probabilmente la lunghezza del mio intervento non ha fatto in modo che tutti potessero ascoltare questo passaggio, è stata ufficialmente aperta. La procedura con il fine di portare alla decadenza, caducazione, revoca della concessione ad autostrade per l'Italia. Non solo per quanto riguarda la 10, ma per tutta la convenzione, tutta la convenzione unica.